benvenuti a quarta di copertina oggi parliamo di una associazione l'associazione pro retinopatici e ipovedenti divenuta da poco associazione nazionale con diverse sedi in diverse regioni d'italia un'associazione per cui da da anni io curo il periodico occhi aperti quindi un piacere e un onore per me avere oggi ospite il presidente barco bongi con cui parleremo dell'associazione di questa pubblicazione di cui sta per andare in stampa il numero primaverile avremo un'anteprima con la copertina e nuovi argomenti di cui si parlerà e parleremo anche della storia di questo quadrimestrale che ormai esiste da oltre 12 anni una pubblicazione che è dedicata alle attività dell'associazione ma che è diffusa anche a simpatizzanti specialisti persone che soffrono di disabilità visiva ma anche a organizzazioni che con l'apri ormai collaborano da tanti anni una realtà molto viva e vivace che ormai ha praticamente 30 anni marco bongi qui con noi oggi come è nata l'apri allora l'apri è arrivato ormai al traguardo dei 30 anni nacque ufficialmente il 21 giugno del 1990 anche se già negli anni precedenti ci stavamo preparando diciamo per dare vita a questa organizzazione nasceva da un gruppo di persone ipovedenti non vedenti soprattutto come dice il nome stesso retinopatici cioè persone che soffrono di problemi alla retina e in special modo di distrofie retiniche ereditarie allora eravamo giovani erano giovani anche i medici che collaboravano con noi oculisti genetisti biologi tutti coloro che in qualche modo si occupavano di promuovere la ricerca scientifica contro queste patologie questo è stato un pochino la molla originale che ci ha dato il via poi col passare degli anni certo la parte scientifica non l'abbiamo mai trascurata però sono nate tutte una serie di attività collaterali di carattere sociale inserimento scolastico lavorativo cultura tempo libero attività ricreative tecnologia sugli ausili per le persone ipovedenti ecco la tecnologia la tecnologia ha dato una grossa mano per poter seguire anche le lezioni scolastiche per i ragazzi che hanno un problema di vista per chi ha magari un problema di vista in età avanzato quindi con una maggiore età anche più difficile convivere con questa disabilità sta dando una grossa mano da una parte da dall'altra si toglie perché molto spesso quando riusciamo a conquistare l'accessibilità di una tecnologia o di un tipo di computer o di collegamento di sito internet poi dopo la tecnologia ha già fatto dei passi avanti quindi bisogna di nuovo rincorrerla per per renderla di nuovo diciamo accessibile così sta avvenendo tanto per essere puntualizzati sull'attualità per queste didattica distanza questi piattaforme che assicurano queste attività sono originariamente non erano tanto accessibili poi con il passare dei mesi però ormai è passato un anno dalla pandemia molti molti software accessibili le hanno diciamo integrate al loro interno però diciamo anche qua è sempre un po una corsa per per acquisire diciamo l'accessibilità di tecnologie nuove ecco io come dicevo prima l'onore di essere direttore di occhi aperti ormai da da qualche anno ho collaborato alla sua nascita circa 12 anni fa e abbiamo al nostro interno delle rubriche fisse tra queste mi piace ricordare quella di simona guida la psicologa e psicoterapeuta che collabora con l'apri che a tutte le edizioni della rivista ci fa avere un contributo che stavolta ha puntualizzato proprio su questa smaterializzazione del corpo che è stata portata da troppa diciamo vita online per cui per i ragazzi da un lato è più facile perché per chi non vede è più facile sentire la lezione e c'è meno disturbo dall'altro però manca quel contatto diretto che invece è fondamentale si è un problema di tutti di tutti i cittadini di tutte le persone sicuramente ma che nel campo della disabilità visia va una sua particolarità noi stiamo assistendo proprio in questi mesi a persone che in un certo senso avendo chi non vede problemi a spostarsi quindi a utilizzare mezzi pubblici a camminare per la strada quasi si è un pochino adagiata dal fatto che quasi tutto si può fare in un certo modo a distanza e quindi abbiamo un po di timore che quando poi speriamo presto la situazione si risolva e si ritorni diciamo alla libertà di poter uscire e fare poi queste persone facciano fatica a recuperare la dimensione precedente quindi ad esempio proprio con la psicologa Simona Guida stavamo valutando come fare in futuro per ad esempio gestire i gruppi in modalità mista magari con alcune persone che partecipano fisicamente e altre persone che si collegano la casa sarà un comunque un problema che andremo ad affrontare anche nel campo lavorativo molti nostri associati si sono abituati ormai a poter lavorare da casa cosiddetto smart working cosa succederà quando dovranno di nuovo uscire la mattina raggiungere il posto di lavoro già molti chiedono non so se sia giusto o sbagliato di poter continuare a fare smart working anche dopo la pandemia e quindi sarà un pochino tutto uno scenario nuovo che dovremmo in qualche modo affrontare ecco noi stiamo uscendo con l'edizione primaverile della rivista una copertina un po' diversa dal solito ideata dalla nostra grafica selene spanò e anche questa volta avremo il piacere di avere diversi contributi sia dalle sedi che comunque collaborano e fanno parte dell'associazione ricordo per asti renata sorba per settimo torinese giusy pinna e vito internicola per il verbano accusio ossola abbiamo laura martinoli rosalita varallo questi sono i primi nomi che mi vengono in mente delle persone che in ogni edizione mandano il loro contributo ma ormai l'apri a sedi praticamente in tutta italia quindi ci sono magari sedi un po più ormai radicate come la liguria con claudio pisotti ma anche la sicilia stavolta sì in questo ultimo numero abbiamo dedicato alcune pagine alla sicilia una regione sicuramente lontana ma che ha avuto un interesse che ha manifestato negli ultimi mesi nei confronti dell'associazione e già due realtà diciamo locali una nella sicilia occidentale l'altra nella sicilia orientale si sono avvicinate ed hanno creato diciamo delle nostre sedi decentrate si tratta di gruppi pieni di buona volontà i problemi ovviamente in quel contesto territoriale sono più grandi c'è meno welfare state c'è meno accessibilità ad esempio per le strade per muoversi diciamo autonomamente le barriere architettoniche sono ancora molto più presenti che da noi e quindi in qualche modo stiamo cercando di mettere a punto una strategia anche per affrontare le problematiche locali che sono molto diverse da seconda dei territori ecco invece nell'edizione precedente che ho io qua avevamo dedicato la copertina al Veneto quindi un'altra terra conquistata dall'Apri sì nel Veneto abbiamo una sede a Venezia proprio e proprio nei confronti di Venezia abbiamo avuto l'onore di poter avere proprio pochi mesi fa l'intitolazione alla figura di Louis Braille grande educatore che ha inventato l'alfabeto tattile per i non vedenti una rotonda a mestre che è stata dedicata a questo grande inventore questa campagna di chiedere delle intitolazioni che rappresentano in qualche modo anche un segno di interesse di sensibilità che non costano niente a livello diciamo economico perché sappiamo che tutti i comuni hanno gravi problemi di bilancio lo stiamo portando avanti in Piemonte e anche lo stiamo esportando nelle altre regioni. In Veneto abbiamo avuto anche un importante punto di riferimento in un comune vicino a Padova che si chiama Cadoneghe dove sono state installate delle piste tattili interattive molto moderne grazie anche all'interessamento del nostro gruppo Veneto. Ecco io sfoglio le copertine e mi piace evidenziare che in molti giornali abbiamo sottolineato l'importanza anche del rapporto con il territorio quindi anche con comuni medio piccoli attenti alle esigenze di chi ha problematiche della vista e che quindi come l'essolo per esempio perché proprio questa che ho di fronte è la copertina che era stata dedicata al percorso delle fontane hanno aderito a progetti per inserire delle targhe in braille. Sì questo è un nostro fiore l'occhiello cioè avere un'attenzione speciale nei confronti degli amministratori locali anche di comuni piccoli anche di comuni magari lontani dalle grandi città. Abbiamo già da anni inaugurato sul nostro canale YouTube una serie di interviste ai primi cittadini di paesi grandi o piccoli ne abbiamo già circa 70 80 raccolte nelle quali facciamo soprattutto sensibilizzazione e chiediamo informazioni su cosa si sa magari in quel territorio magari remoto delle problematiche della disabilità visiva e abbiamo in Piemonte creato anche una rete a cui aderiscono ormai circa 25 comuni che in qualche modo vuole formare un'accordata per proporre delle progettazioni partecipate diciamo alla regione alle fondazioni bancarie o altri possibili finanziatori quindi noi crediamo molto nel lavoro in rete il lavoro in rete è un asso della manica chi vuole fare tutto da solo molto spesso non riesce a fare quasi nulla ecco quindi ci teniamo molto a salutare appunto anche i nostri amici sindaci di comuni anche qui del canavese ce ne sono molti che ci seguono con affetto ci chiamano ci ci parliamo ed abbiamo un rapporto molto affiatato ecco se qualcuno tra i nostri ascoltatori fosse interessato a partecipare o a contattare l'associazione può farlo tramite il sito sì il sito è www.iprovedenti.it poi abbiamo la pagina facebook apri onlus occhi aperti che porta appunto anche il nome della rivista poi il canale youtube apri onlus su cui stiamo puntando molto stiamo cercando di far aumentare gli iscritti quindi cliccate cliccate iscriviti e fate farete parte anche voi di questa grande avventura di questa grande progettualità dell'apri certo poi c'è la mail apri chiocciola ipovedenti punto it a cui ci potete scrivere in qualsiasi momento ecco il il giornale ha anche delle pagine di politica e stavolta parleremo con l'onorevole elena maccanti abbiamo sempre riscontato una grandissima disponibilità da forze politiche di tutte le appartenenze c'è grande sensibilità verso la disabilità visiva quali sono i temi portanti su cui ci vogliamo concentrare con questo giornale diciamo che la sensibilizzazione del mondo politico è molto importante anche perché vi è un concetto di disabilità molto spesso massificante nel senso che si pensa che tutti i disabili abbiano più o meno gli stessi problemi e purtroppo non è così la disabilità sensoriale come appunto quella visiva ha dei problemi soprattutto di carattere tecnico bisogna affrontare delle problematiche appunto connesse col fatto che non si vedono le strade a camminare a leggere non abbiamo tanto bisogno di qualcuno che ci faccia compagnia o di qualcuno che ci ci aiuti a capire delle cose eccetera quindi molto spesso gli enti locali tendono a creare dei servizi sulla disabilità in generale senza tener conto diciamo delle problematiche specifiche e tutto l'attività di sensibilizzazione che facciamo anche attraverso la rivista o attraverso le interviste eccetera è finalizzato proprio a questo a sensibilizzare e a creare dei rapporti noi ci mettiamo a disposizione appunto degli assessori dei sindaci per poter dare delle consulenze ovviamente gratuite perché i problemi sono comunque i nostri e quindi è tutto nostro interesse quello di poterli risolvere in qualche modo ecco ormai da qualche anno dura la collaborazione con il centro di riabilitazione visiva di Ivrea sì questa collaborazione è nata nel 2011 con alti e bassi però siamo comunque presenti all'interno del centro di riabilitazione visiva dell'asletto 4 che ha sede in via Iervis 9 presso questo centro cerchiamo in qualche modo di riabilitare che significa insegnare di nuovo a vivere alle persone che hanno acquisito una grave problematica visiva quindi l'autonomia certo l'autonomia a tutti i livelli quindi sia a livello di mobilità per camminare sia a livello di leggere un libro poter cucinare poter fare le pulizie tutto ciò che che coinvolge in qualche modo la vita quotidiana imparare per quanto possibile a farlo senza vedere ovviamente non possiamo insegnare a guidare la macchina perché questo non è possibile però tutta una serie di attività si possono fare il centro di riabilitazione visiva proprio questa funzione e lì abbiamo un punto di riferimento che è charlotte napoli se non sbaglio che appunto accoglie chi decide di avere informazioni in questo senso questa è la trasmissione che parla di libri che parla di scrittori e recentemente ci si è accorti che sono molte le persone sono molte le persone con problemi di vista che scrivono romanzi e anche romanzi di un certo peso sì allora esiste proprio una voglia di comunicare da parte di molte di queste persone che non nascono magari come scrittori professionisti ma che lo diventano proprio per la volontà in qualche modo di far comprendere la propria situazione di sensibilizzare e di raccontare anche episodi di vita vissuta quindi momenti autobiografici che in qualche modo possano aiutare i terzi le altre persone a capire la situazione abbiamo quindi una serie di scrittori anche tra i nostri soci che si sono gettati diciamo un po nella mischia con risultati a volte ottimi a volte meno importanti ma beh che però manifestano un interesse culturale diciamo che esiste latente nella categoria forse meno che in passato perché comunque c'è meno attenzione diciamo alla formazione culturale rispetto al lavoro perché i lavori che svolgono i disabili visivi sono sostanzialmente il centralismo telefonico la fisioterapia mentre un tempo c'era più un'esigenza di avere una formazione culturale più profonda però comunque c'è questa voglia di comunicare e l'associazione deve fare un po da ponte questo è molto importante rientra tra le sue finalità quella di dare delle chance diciamo dare delle opportunità a questi soci ecco durante le ultime festività sono stati anche premiati i vincitori del premio letterario occhi aperti e abbiamo scoperto dei talenti che hanno partecipato da tutta italia sì allora la prima edizione stavamo pensando magari di ripeterla magari ogni due anni invece che ogni anno si riferisce ad un concorso letterario che è riservato alle persone con problemi di vista che in qualche modo consenta loro di fare esperienza nel campo della scrittura creativa devo dire che la prima edizione è andata molto bene abbiamo raccolto anche delle interessanti racconti ispirati molti molti di questi ispirati alle difficoltà portate dalla pandemia e abbiamo anche pubblicato sul sul numero del giornale il racconto vincitore ecco sono molte le iniziative che l'apri porta avanti nelle scuole ricordo con piacere la visita agli allievi del ciak che si apprestavano ad essere camerieri cuochi o parrucchieri ma l'apri collabora anche con licei e altre scuole che vogliono sensibilizzare i giovani alle esigenze di chi ha una problematica della vista come reagiscono gli studenti ecco per quanto riguarda la sensibilizzazione scolastica un altro nostro fiore l'occhiello ovviamente in quest'anno è stato molto tutto molto più difficile tutto molto più rallentato però abbiamo un ventaglio di proposte da portare alle scuole che parte dalla scuola per infanzia e finisce all'università nel senso che anche la facoltà di scienze infermieristiche non ultima quella di Ivrea ci chiede a volte di poter fare delle lezioni di sensibilizzazione quello che proprio è proprio una caratteristica nostra è il progetto il buio non fa paura che è proprio destinato alle scuole materne alle scuole per l'infanzia tutti pensavano che sarebbe stato difficile interagire con bambini così piccoli e fare capire determinate cose invece con l'esperienza delle nostre educatrici anche di Charlotte Napoli che lo segue anche delle educatrici di Torino siamo riusciti ad ottenere veramente dei risultati molto interessanti e ci fa piacere poter dedicare del tempo anche proprio ad entrare nelle scuole parlare con gli insegnanti specialmente poi in quelle classi dove sono inseriti dei bambini o dei ragazzi ipovedenti o non vedenti quindi in quel caso c'è proprio una doppia motivazione sensibilizzare anche il corpo insegnante sensibilizzare i compagni sul come integrare come accogliere il proprio compagno con queste difficoltà sensoriali in ogni numero della rivista diamo spazio a personaggi storici nella storia non soltanto nella storia diciamo classica ma anche nella storia musicale nella storia politica nella storia dell'arte abbiamo trovato tanti personaggi non vedenti questo è un po' un mio pallino diciamo che perché nella nostra categoria vige un po' uno stereotipo culturale che dice i ciechi hanno sempre chiesto l'elemosina sulle scalinate delle chiese e poi a partire dal 1920 quando nacque la grande organizzazione storica dei non vedenti cambiò tutto siamo andati a scuola abbiamo trovato lavoro abbiamo avuto tutti i servizi la cosa non è assolutamente così certamente ogni periodo storico ha avuto le sue difficoltà però devo dire che noi reperiamo personaggi che hanno svolto un ruolo centrale nella propria società anche nell'antichità nel medioevo nell'età moderna in qualsiasi epoca e questo nonostante non esistesse magari l'alfabeto braille quindi bisognava in qualche modo tramandare oralmente il messaggio culturale faccio solo un esempio che molto spesso stupisce il primo successore di isaac newton alla cattedra di geometria e matematica dell'università di cambridge era un non vedente dalla nascita il professor sanderson ricard sanderson che insegnò per molti anni subito dopo isaac newton matematica e geometria e ottica addirittura all'università di cambridge siamo tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700 quindi tante di queste figure le andiamo a scoprire di volta in volta poi cerchiamo sempre di prevedere qualche articolo storico in ogni numero della rivista ecco poi ci sono rubriche fisse vi dicevo prima mi vengono in mente la rubrica di valte del perosino rappresentare l'arte che in ogni numero parla di un personaggio non vedente che presenta una tipologia diversa di arte e di ricerca artistica poi abbiamo l'onore di avere con noi giovanni tasso noto critico musicale attivo anche con grandi realtà concertistiche torinesi che in questo in questo prossimo numero continuerà la storia di handel e quindi le avventure di questo musicista non vedente avremo anche firme nuove abbiamo in questo numero in uscita ci saranno degli articoli per esempio sull'importanza della lavorazione della terracotta grazie alla collaborazione con Sonia Porpiglia sono i primi nomi che mi vengono in mente non me ne vogliono quelli che non ho nominato ma sono i primi articoli di cui mi viene così il nome è importante però avere sempre firme nuove quindi se anche voi avete il piacere di mandare degli articoli alla nostra rivista potete contattare me all'indirizzo che potete usare anche per venire in trasmissione deborabocchiardo chiocciolagmail.com colgo l'occasione per dire che l'intervista è realizzata con un plexiglass che separa me dall'ospite in studio si entra con la mascherina quindi anche partecipare a quarta di copertina è possibile ed è possibile in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti coronavirus la nostra rivista occhi aperti guarda al futuro ha una veste grafica rinnovata a volte ci siamo abbiamo dedicato attenzione al dibattito ad argomenti che diciamo così si contrapponevano faccio una domanda provocatoria scuole speciali per ragazzi che hanno problemi di vista una volta c'erano ora si tende ad integrare i ragazzi nella scuola con tutti i problemi che questo implica perché i ragazzi che non vedono hanno sicuramente esigenze speciali cosa ne pensi? è un problema molto complesso in italia è quasi un tabù non se ne può parlare perché comunque ad ogni iniziativa si sente che l'integrazione scolastica è irreversibile in altri paesi europei invece non è assolutamente così ad esempio in germania esistono molte scuole speciali d'avanguardia che fanno un ottimo lavoro diciamo che l'obiettivo è l'integrazione ma io dico sempre l'integrazione nella vita non solo l'integrazione nella scuola e quindi la scuola deve soprattutto formare dare una istruzione dare una preparazione culturale e insegnare anche l'autonomia noi notiamo che molto spesso coloro che sono stati educati in una scuola speciale ormai in Italia molti anni fa hanno poi avuto una chance migliore nell'integrazione nel momento successivo perché hanno imparato in qualche modo ad arrangiarsi quando erano piccoli hanno appreso delle strategie che poi dopo hanno messo frutto negli anni successivi molto spesso invece notiamo che le famiglie sono iper protettive il mondo della scuola non speciale ha paura la frase ricorrente evitiamo il più possibile di avere grane quindi diamola tutte vinte cerchiamo di mettere intorno una protezione esagerata non facciamo mai ripetere degli anni questo vale per tutti gli studenti ma soprattutto per gli studenti disabili nessuno oserà mai dire che questo ragazzo dovrebbe ripetere perché se no si ha paura di essere contestati dei ricorsi al tar di questo e di quell'altro e quindi molto spesso notiamo che se ci sono delle doti molto spiccate poi i ragazzi riescono in qualche modo a conquistarsi la loro vita la loro autonomia ma molto spesso rimangono invece delle persone con grossi problemi di adattamento nell'età poi giovanile ed adulta e soprattutto poi nel mondo del lavoro dove lì non c'è nessuno che ti fa degli sconti e quindi devi in qualche modo mostrare di essere valido altrimenti viene marginato comunque Allora all'interno della rivista è presente un bollettino tramite il quale si può sostenere l'associazione Pro Retinopatici Bevedenti attraverso delle offerte quindi è possibile interagire sono tante, l'abbiamo detto, le collaborazioni con associazioni, con comuni anche con organizzazioni artistiche di un certo livello come l'Accademia del Ricercare e l'Accademia Corale Stefano Tempia per esempio l'attività musicale Sì, diciamo che l'hai citato tu prima, io vorrei ringraziare il professor Giovanni Tasso che è veramente una delle firme più autorevoli della nostra rivista e con l'Accademia del Ricercare stiamo aderendo abbiamo aderito ufficialmente al progetto per la nuova stagione concertistica di Antiqua e speriamo che se la regione approverà appunto questo progetto di poter organizzare qualche concerto proprio con una presenza particolare dei nostri soci che organizzeremo in qualche modo quindi è bello anche potersi sentire integrati all'interno del mondo della cultura per noi questo è molto importante Occhi aperti a 32 pagine dedicate ad argomenti leggeri, ad argomenti artistici, a iniziative sociali e poi c'è un'ampia pagina dedicata sia all'attività anche sindacale grazie a Pericle Fadris che è una realtà viva e attiva una persona veramente che si impegna ma poi anche grazie all'intervento e alla collaborazione preziosissima di tanti specialisti Sì, sicuramente appunto dalla politica, dalle attività sindacali, dal dibattito interno alla categoria questo molto spesso magari crea qualche dissapore ma io ci tengo molto cioè noi dobbiamo imparare a discutere, a non etichettare nessuno a priori quindi poter rispondere anche a delle posizioni che magari non si condividono ma con l'argomentazione, con la logica, con il ragionamento e non con l'invettiva o con il fatto che non stai dicendo senza entrare nel merito diciamo, con lo discredito e questo il dibattito quindi la rivista è la sede diciamo migliore per dibattere perché c'è spazio, ognuno può scrivere quello che pensa e mettersi a confronto con quello che pensa un'altra persona che poi dal confronto nascono poi veramente i risultati che durano nel tempo Questo soprattutto anche per medici oculisti che magari hanno l'opportunità di esprimere il loro parere, il loro punto di vista Sì, noi come dice giustamente sempre Deborah non siamo una rivista scientifica però diamo spazio a articoli anche approfonditi di carattere scientifico oculistico nella prospettiva di fare sensibilizzazione e informazione tra i pazienti un po' il ruolo originale dell'associazione quello di gettare un ponte fra il medico e il paziente perché molto spesso queste due categorie viaggiano in mondi paralleli che non si parlano tra di loro invece l'APRI nasce proprio nel 1990 proprio da la collaborazione tra un gruppo di pazienti di ipovedenti e un gruppo di medici e questo rapporto si è consolidato nel tempo e ancora oggi sabato scorso proprio abbiamo fatto un importante convegno nazionale online sulle distrofie retiniche ereditarie un'iniziativa di grande importanza che è stata visualizzata da più di mille pazienti quindi su tutto il territorio nazionale ed è un'iniziativa che ripetiamo periodicamente circa ogni due anni bene il tempo è tiranno come sempre e sta per scadere la mezz'ora a nostra disposizione io ringrazio Marco Bongi un saluto a tutti i soci sostenitori e amici dell'associazione pro retinopatici e ipovedenti vi ricordo che per partecipare a quarta di copertina potete chiedere informazioni alla mia mail deborabocchiardocchiocciolagmail.com vi aspettiamo a Rivarolo Caravese presso gli studi di Obiettivo News in tutta sicurezza perché si accede con mascherina sanificazione delle mani e tra me e l'ospite è presente un plexiglass di protezione quindi vi aspettiamo per presentare i vostri libri per raccontare le vostre iniziative editoriali anche cataloghi d'arte, ricerche musicali, ricerche storiche o perché no riviste come Occhi Aperti di cui abbiamo parlato oggi io vi do appuntamento alle prossime puntate e mi raccomando rimanete con noi continuate a seguirci anche su tutti i social e sul canale YouTube di Obiettivo News grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti